Non preoccupatevi dei cadaveri! C'è un cecchino! Troviamolo! Occhio aperti! Non fatemi morire! Devo ricaricare! Ehi, perché stai soffrendo? Bruciamo un deposito nei fornimenti dei ribelli! Un'altra parte! Ora ricarico! Sono a uno dei nostri depositi di fornimenti! Cerco di fruttare la nostra roba! Sto ricaricando! Eccone uno! Sono a corto di colpi! Troviamo gli esploratori con il volo! Esploratori operativi e di vedetta! Abbiamo incendiato un deposito dei ribelli! Merda! Merda! Colpi finiti! Abbiamo afficcato il primo incendio! Il primo incendio ha presso! Afficca il secondo! Gli esploratori sono pronti! L'incendio si è spento! Sbrigatevi a riaccederlo! Sono a uno dei nostri depositi di fornimenti! Bruciamo un deposito di fornimenti dei ribelli! Il nemico usa gli esploratori! Ricarico! Eccone uno! Potrai dormire dopo! Stanno dando fuoco a un deposito di fornimenti! Hanno incendiato un deposito! Non devono arrivare all'altro! L'incendio dei ribelli si è spento! L'attacco fisico è pronto! Sarà fatto! Cerchiamo di bruciare la nostra roba! L'incendio dei ribelli si è spaventati! Un intervento! Smetti di fregniare! Abbiamo incendiato un deposito dei ribelli! Parili esplosivi pronti allo sgancio! I ribelli hanno mandato degli esploratori! Devo ricaricare! Abbiamo appiccato il primo incendio! Il nemico usa gli esploratori! Un incendio appiccato! Porta il culo al prossimo! Ce n'è un altro! Ricarico! Guardatemi le spalle! Devo rattupparmi! Qualcuno mi copra! Devo ripigliarmi! L'incendio si è spento! Fate qualcosa! È all'asfalta! Abbiamo incendiato un deposito dei ribelli! Sono carne morta! I ribelli hanno mandato degli esploratori! Gli esploratori sono in volo! Sono a uno dei nostri depositi di fordimenti! Il culo al canno ha preso! Afficca il secondo! Abbiamo incendiato un deposito! Dovete difendere l'altro! L'incendio si è spento! Dobbiamo appiccarne due! L'incendio è spento! Non devono riprovarli! Uccideteli alla fetta! Occhi aperti! Ricarico! Cercano di bruciare la nostra roba! I colpi stanno finendo! Hanno incendiato un deposito! Non devono arrivare all'altro! Gas velenoso alleato in arrivo! Abbiamo appiccato il primo incendio! Stanno andando all'altro! Bruciamo un deposito di fornimenti dei ribelli! Cercano di appiccare un altro incendio! Abbiamo incendiato un deposito dei ribelli! L'incendio dei ribelli si è spento! L'incendio è appiccato! Porta il culo al prossimo! Stanno dando fuoco a un deposito di fornimenti! Eccone uno! Cercano di bruciare la nostra roba! Hanno incendiato un deposito! Dovete difendere l'altro! Un rogo! Difendete la radio! Finché non c'è segnale! L'incendio si è spento! L'esploratore di via di attenzione! Arrivano i barili esplosivi alleati! L'esploratore di via di attenzione! C'è segnale! Chiamate! Dobbiamo spegnere questo casino! Prendiamo la radio! Ci impossessiamo l'esploratore di via di attenzione! Il nemico usa gli esploratori! I ribelli hanno mandato degli esploratori! Ci impossessiamo della radio! Conquistiamo la radio! Ci impossessiamo della radio! Prendiamo la radio! Barili esplosivi alleati in arrivo! Gli esploratori sono in volo! Conquistiamo la radio! Certo! Sì! Ci impossessiamo della radio! Muovete il volo! Gli esploratori sono in volo! Munizioni andate! Abbiamo la radio! Il rugo dei ribelli è finito! Ora incendiate quei ricordi pezzi! Pronti per la ricognizione! Non è niente! Gli esploratori sono in volo! Il nemico usa gli esploratori! Stanno dando fuoco a un deposito di fornimenti! Hanno preso un deposito di fornimenti! Dobbiamo difendere il secondo! Esploratori nemici in volo! C'è Kino! Vado un salvo all'altro! L'incendio dei ribelli si è spento! Stavolta teneteli alla larga! Cercano di sfruttare la nostra roba! Attacco chimico pronto! Sono ferito! Ora ricarico! Gli esploratori operativi è di veneta! Abbiamo afficcato il primo incendio! Stanno dando fuoco a un deposito di fornimenti! Dattacco! Stanno dando fuoco a un deposito di fornimenti nei livelli! Il nemico usa gli esploratori! Sono a uno dei nostri depositi di fornimenti! Stanno dando fuoco a un deposito di fornimenti! Hanno incendiato un deposito! Dovete difendere l'altro! I nostri esploratori sono in volo! Afficcano il fuoco al secondo deposito! Abbiamo incendiato un deposito dei ribelli! Fate più in fretta! Il primo incendio ha preso! Affinca il secondo! Il nemico usa gas venenoso! Portate via il culo da lì! Gli esploratori sono in volo! Cercherò di afficcare un altro incendio! L'incendio è spesso! Non devono riprovarci! Ehi! Cazzo! Copritemi! Sto ricaricando! Cercherò di fruttare la nostra roba! Esploratori operativi è di veneta! L'incendio si è spesso! Dobbiamo rincarne due! Cerchiamo un deposito di fornimenti! Prendo un deposito di fornimenti! Dobbiamo rincarne un deposito dei ribelli! Abbiamo afficcato il primo incendio! Ehi coglione! È ora di rinfrescarsi! Cosa? 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 Cosa?